Day One per la T-Maltamura, via la prima storica stagione tra i professionisti dei Murgiani. Prima seduta agli ordini di Daniele Di Donato al D'Angelo nella mattinata di lunedì, poi la presentazione del nuovo tecnico e del direttore sportivo Andrea Grammatica. In società c'è entusiasmo a garantirlo proprio i due nuovi arrivati. Ho trovato una società che ha voglia di fare qualcosa di importante, si è messa subito a disposizione per permetterci di lavorare il miglior modo possibile. Ho trovato un ambiente molto appassionato, grande energia in società, consapevolezza che sarà un anno veramente complicato, però c'è veramente attaccamento a questi colori, alla città, idee chiare, sono imprenditori di successo. L'esordio ufficiale avverrà l'11 agosto contro la Tourist in Coppa Italia, prima di campionato a Crotone il 25. Ancora attesa per i lavori allo stadio, lì dove la squadra si allenerà prima di raggiungere il ritiro di Alfedena. Serviranno almeno una decina di giorni per l'assegnazione degli ingenti lavori di adeguamento. Si spera che la consegna avvenga entro ottobre, ma pare ad oggi uno scenario troppo ottimistico. Mister Didonato però non cerca alibi, la salvezza dovrà prescindere da queste problematiche. Giocare in casa sarebbe tutto più bello, ma anche per la gente, per la vicinanza, però non deve essere un alibi questo. Noi dobbiamo andare a cercare di andare a fare le nostre gare, campo dopo campo, senza guardare dove andremo. Quindi noi alibi campo deve essere zero. Didonato e grammatica in simbiosi per allestire un'altamura giovane e frizzante, partendo dalla necessità di far minutaggio, come dimostrano i primi arrivi. Il tecnico è un amante del 3-5-2, ma è presto per parlare di moduli e molto dipenderà dal mercato. Non sarà un'estate semplice. Obiettivamente sono dei giocatori con tutto rispetto di valore economico sopravvalutato rispetto alle reali qualità, ma andiamo dietro alle caratteristiche che stiamo ricercando, dietro a qualche idea, senza farci tirare il collo con richieste economiche, secondo me, assurde. Il vero mercato purtroppo inizierà ad agosto. Altamura non è una priorità per determinati calciatori, o meglio, non hai l'appeal di qualche altra piazza. È lo scotto di tutte le neopromosse, e bisogna accettarlo e bisogna avere molta pazienza, ma quella l'abbiamo, non è un problema.